C'è questo importante appuntamento il 26, 27 e 28 di agosto con al Cenacolo, un evento a cui tenete in maniera particolare? Sì, l'estate non è finita, concludiamo con uno degli eventi a cui teniamo in particolar modo. Dopo una pausa dovuta al Covid, torniamo con il Cenacolo, che è una manifestazione non solo di divertimento, ma anche di grande livello culturale, in cui ricordiamo la storia di Francavilla, la storia culturale di Francavilla fatta da Francesco Paolo Michetti, Gabriele D'Annunzio, Tosti, Barballa e tanti altri che hanno trascorso numerosi anni qua e hanno prodotto tanto portando la cultura abruzzese al di fuori dei confini abruzzesi e anche nazionali. Quindi è bene che questi momenti culturali servano anche da volano per il turismo di Francavilla. Un evento di grande valenza perché parla della nostra grande tradizione culturale, Michetti è la storia della cultura non solo francavillese ma italiana, è tutto quello che ruotava intorno a quel Cenacolo a fine ottocento, da D'Annunzio, Tosti, De Cecco, Barballa, Scarfoglio, ce ne sono tantissimi, Matilde Serau. E quindi celebrare la nostra grande tradizione, focalizzarci su alcuni aspetti che non sono ancora conosciuti, per esempio le musiche di Tosti riarrangiate per orchestra e fiati, non solo quindi la proposizione per pianoforto e canto. È un modo nuovo di parlare di quel periodo, di celebrarlo e di prenderci anche qualche spunto. Noi abbiamo una grande eredità. E poi avremo la serata del premio culturale MUMI in cui si parlerà di solidarietà, di messaggi importanti. Quest'anno omaggeremo ad Opsa Brenza e il messaggio che porta con sé è che deve essere sempre da monito, visto tutto quello che ci accade.